Si è svolto oggi a Casterno di Robecco sul Naviglio il Tappa Duotlon, Run, Bici e ancora Run. Bella Fabio, grande, non è che manca meno un chilometro, quasi finito dai, meno di un chilometro. Grazie ragazzi. Dai Cristian che manca meno un chilometro. Vai, vai, vai. Guarda Augusto, eccolo qua. Vaca arriva, arriva. Augusto Spilotti che si va a presentare il quarto posto singolo. Bravo Fede! E tanto arriva. Fede! Bravo Federica. Bravo Federica Serruti, Ocqua. Mi chiami? Stefano Rinaldi. Hai fatto completo il Ram Bike. Si, si è fatto completo. E' andata bene. Sono andato molto forte in bici e sono difeso a piedi e è andata bene. Fai anche il triathlon. No, no, è il primo 2 a Tronc Battle. Il primo 2 a Tronc Battle. E' andata bene. Complimenti. Io vado in dici e corro a piedi separatamente. Complimenti di che società sei. Corro per Nano Way in Milano. Grazie mille. Grazie a te. Fabio, com'è andata? Tutto bene? E' andata bene, si. Abbiamo picchiato forte. Eravate te in compagnia di chi? Chiara Perini. Chiara Perini che è una forte attività. Ex professionista che però secondo me non ha mollato niente. Non sei assolutamente riposata. Non sei assolutamente rilassata devo dire in bicicletta secondo me. Perché sei uscito primo. Davanti andavano forte forte. E sono riuscito a recuperare il primo che aveva il primo al cambio più o meno al terzo chilometro metà gara. Però ho cominciato a fare tutte le energie nei primi tre chilometri per andare al recupero. Però i ultimi tre chilometri non sono riuscito a guadagnare tantissimo. Però sono riuscito comunque a mantenere la testa. Ultimini metri di qui di qui di qui dove vai. Grazie Fabio. Grazie, grazie.